Buonasera, ben trovati. Il tema di oggi è l'andamento della stagione invernale. Analizzeremo i dati elaborati da APT, Associazione Schipas e Associazione Turismo e Commercio durante queste settimane, durante il mese di dicembre e gennaio. Con noi abbiamo il presidente di APT, Luca Moretti, buonasera, benvenuto. Buonasera. Abbiamo il vicepresidente dell'Associazione Turismo e Commercio, Daniele Compagnoni, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti voi, buonasera. E abbiamo Fabio Pensa, responsabile dell'elaborazione dati dell'ufficio Schipas di Livino. Buonasera. Buonasera. Dicevo, in apertura analizzeremo l'andamento stagionale. Come sta andando la stagione per Livino? Io partirei con l'inizio di stagione, che è stato un inizio di stagione molto difficile, molto complicato. La causa, la conoscono tutti, è quella della mancata nevicata, della mancata neve, proprio all'inizio di dicembre. Devo dire che siamo riusciti, come Livino, a supportare quel passaggio di stagione tra l'estate, autunno e inverno, avendo già pronto uno, l'anello di fondo e avendo in casa non solo la nazionale italiana di nuoto, che alloggiava a Livino ed era in acqua grande per i suoi allenamenti, ma anche dei gruppi che hanno orbitato poi intorno all'acqua grande. Quindi quello c'erano tutti i presupposti per avere un 2015 da record, un 2015 con un inverno particolare, ma un inverno molto buono, con un'estate caldissima, una delle migliori estate di sempre, quindi parecchia fluenza e andavamo per avere tutti i presupposti per avere uno dei migliori anni di sempre. Ecco, dicevo appunto, la mancata nevicata ha messo un po' in crisi tutte quelle che erano le buone aspettative, avevamo le previsioni di pernotti, di prenotazioni molto buone, che via via però sono andate mancando con fiumi di disdette e comunque difficoltà anche a comunicare che Livino, quando poi si è organizzata, che comunque gli impiantisti hanno fatto il lavoro egregio, ormai la gente stava mandando le disdette, stava aspettando o riorganizzando le sue vacanze per periodi diversi, quali quelle dell'inverno pieno. Quindi siamo partiti con una difficoltà e con una situazione negativa che si vede poi anche sui dati. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che rimboccandoci le maniche, con la forte comunicazione, con la forte esposizione di Livino, si è riusciti a dimostrare che una Livino era pronta, era una pronta sia nei collegamenti, diciamo, sci ai piedi, ma il paese era pronto per poter ospitare una vacanza, quella solita settimana bianca che veniva convertita dal mondo neve, quindi mondo, in questo caso, dello sci alpino o snowboard, comunque attraverso gli impianti di risalita ad altre attività. Sono andate molto bene le attività outdoor, quali le camminate, le ciaspole, gli sci d'alpinismo o comunque extra attività e lo si può vedere dai dati confrontando presenze e Schipas emessi dall'associazione Schipas. Devo dire che comunque è in generale stato per tutti, per tutto il mondo neve, anche confrontandoci con i nostri competitor e ne è successo appunto poco tempo fa di fare un confronto, anche loro lamentavano questa difficoltà. Quindi vuol dire che il prodotto neve tira, il prodotto neve piace, ma il prodotto neve può mettere in difficoltà qualora dovesse mancare, come è successo. Vediamo se questi pensieri condivisi anche dagli albergatori. Sì, sicuramente anche noi come associazione di turismo e commercio ci eravamo resi conto fin da subito che sarebbe stata un'ottima stagione, poi quando la neve non è arrivata a dicembre chiaramente un po' di disdette sono arrivate. Comunque non ci siamo persi d'animo, nessuno, infatti tutti gli operatori sono stati in grado di rimettere il loro prodotto ai turisti che poi hanno scelto Livigno. L'APT e gli impiantisti sono sicuramente impegnati molto a partire dalla sgambeda che era stata organizzata quest'anno il primo dicembre, che comunque ha fatto affluire un buon numero di presenze. Stessa cosa si può dire per il ponte di Sant'Ambrogio che è stato sicuramente un ponte record. E poi anche se non c'era la neve tutti quanti sono impegnati al meglio dagli operatori che hanno saputo proporre comunque la località al meglio, stessa cosa hanno fatto gli impiantisti riuscendo a preparare un buon numero di chilometri di piste e quindi il periodo di dicembre sicuramente si è riuscito a tamponare abbastanza bene. Con gennaio un po' di neve è arrivata, quindi anche qui le prenotazioni che erano state effettuate meno male sono rimaste le stesse. C'è da dire magari per quanto riguarda il comparto commerciale, soprattutto per chi lavora con il mondo sci, il mondo neve, ha avuto un calo sicuramente in dicembre perché chiaramente non essendoci tanta neve, effettivamente i noleggi sci piuttosto che i negozi di articoli sportivi possono avere avuto un calo, però che poi lungo la stagione sicuramente si può andare a rimpianare appunto proprio perché la neve è arrivata e la volontà e la forza dei Vignaschi è sempre molto forte. Fabio Pensa, ad oggi la situazione qual è? La schiaria è ancora completamente innevata, tutti gli impianti sono aperti? Sì, adesso siamo aperti con il 100% degli impianti, ma soprattutto le piste sono aperte anche loro al 100%, visto che nelle ultime settimane anche la situazione neve in generale fuori pista, anche se noi non ci occupiamo direttamente, però ho visto che è partito l'elischi, insomma, sembra una stagione, diciamo, al momento sembra una stagione normale. Nelle prossime ore ho visto anche prevista un'ulteriore perturbazione con parecchi centimetri di neve, quindi speriamo di portare il più avanti possibile la schiarea. Gli impiantisti non sono preoccupati di non riuscire ad arrivare ad aprile? Beh, diciamo che considerando le nuove perturbazioni, se si mantiene la temperatura siamo nella media delle altre stagioni al momento. La neve non è un po' primaverile? Diciamo, per esperienza personale, vedo che ci sono comunque, proprio da un giorno all'altro, molte differenze a livello di temperatura. Questo sicuramente è la cosa che preoccupa di più, perché se le temperature alte si mantengono per troppi giorni, poi comincia a diventare primaverile. Oggi era freddo, ma ieri no, quindi diciamo che la preoccupazione è proprio su quell'aspetto. Avete ricevuto la mentele nel corso della stagione per l'innevamento o le condizioni in generale? Ma in linea di massima non più di tanto, perché comunque, come dire, all'inizio stagione quando c'è stata più difficoltà, si trattava di una stagione, diciamo, eravamo in ski pass free, quindi comunque un cliente che viene per una vacanza low cost, magari non ha nemmeno parecchie esigenze, anche se in genere si tratta di uno sciatore appassionato. Poi la situazione era comunque comunicata giorno per giorno, quindi non c'erano cose nascoste. Considerando che tutte le altre stazioni, comunque praticamente tutto l'arco alpino, si trovano in situazioni simili, non ci sono state particolari evidenze di reclami o cose del genere. Un aspetto questo che l'azienda di promozione turistica tiene in considerazione, grazie al centro che voi avete da qualche anno, che vi permette di analizzare la neve e quindi siete in grado di avere un quadro ben preciso. Come uffici APT avete ricevuto lamentele o avete percepito malumori tra i turisti per il disagio di dicembre oppure no? Devo dire che qualche lamentela c'è sempre, anche quando c'è tanta neve, quando si attiva le rischi, quando ci sono... troviamo sempre qualcuno all'ufficio a lamentarsi. La lamentela va poi considerata in base alla situazione oggettiva, quindi qualche lamentela c'è stata, soprattutto sul prezzo dello skipas, dello skipas free rispetto all'area aperta, l'area intendo l'area sciabile. È anche vero che quando ci sono queste situazioni, poi con l'ospite che si lamenta gli si spiega la situazione, gli sforzi fatti e tutto viene compreso, perché veramente c'è da spezzare una lancia a favore degli impiantisti quando con gli sforzi fatti loro effettivamente hanno più costi, hanno maggiori spese e noi dovremmo comunque chiedere da utenti un prezzo inferiore dello skipas. Questo non è... cioè sono proprio due paradossi che nel momento che sto offrendo di più in termini di costo entra anche meno, quindi non è proprio logico. Spiegando all'ospite che si lamenta della situazione, delle possibilità extra che si hanno, della possibilità che quest'anno avevamo di avere un'ora inclusa in acqua granda, quindi viene tutto ripareggiato e ripagato e comunque apprezzato. Quindi non c'è stata questa forte lamentela, c'è stato qualcuno, ma come dicevo c'è sempre una piccola lamentela anche quando le situazioni sono ottimali. Sì, devo dire che in generale comunque quello che ha fatto da volano nel senso negativo nel richiamare la difficoltà della montagna è stata appunto la comunicazione di tutti, nel senso che quando nel Tirolo non c'è neve, quando sulle Alpi nostre non c'è neve, spostandoci poi nelle altre realtà, è chiaro che tutti i tg iniziano a parlare, a aumentare quello che è la difficoltà del mondo neve in quel momento. A questo punto era difficile anche per qualsiasi località o qualsiasi gruppo di località poter provare a dar contro questa cattiva influenza. Quindi è tutto il panorama che ne ha subito, a Ispo si parlava appunto di questa difficoltà, ma è chiaro che il giornalista, e tu mi insegni, non può esimersi dal raccontare l'accaduto in modo oggettivo. Le telecamere poi oggi non mentono, per cui qualunque turista oggi si informa sulla destinazione e può vedere in tempo reale che cosa trova. Esattamente, quindi anche il mondo, diciamo austriaco, proprio a Ispo lamentava questa difficoltà e diceva, noi abbiamo provato con delle telecamere a far vedere nel caso di soldi nel ghiacciaio, ma è chiaro che ad oggigiorno non è possibile più nascondersi. E questa è la situazione, come fare? Perché la domanda verrebbe spontanea a tutti, dire come fare in caso di neve? Adesso siamo in crisi, non arriva più la neve, dobbiamo guardare al mondo in un altro modo. Ci sono realtà che si sono portate avanti, l'approvvigionamento dell'acqua per gli impiantisti, non voglio stare a fare una puntata su cosa bisognerebbe fare, però sicuramente l'approvvigionamento dell'acqua è uno dei problemi che l'ivigno ha e la temperatura non è questo il problema, perché anche con tanta giornate calde, giornate senza neve come quello che è stato dicembre, si sarebbero riusciti a sparare in un periodo magari più corto della notte, ma si sarebbero riusciti a sparare. Quindi la linea che va intrapresa è quella dell'approvvigionamento dell'acqua, c'è qualche realtà, qualche stazione nostra a competitor che l'ha fatto, e infatti in uno degli ultimi incontri mi sembra, ricordo bene, non mi sembra, che l'assessore Galli, il consigliere Galli abbia presentato un piano che insieme alla comunità montana si vuole portare avanti per dare agli impiantisti la possibilità di approvvigionamento dell'acqua attraverso dei lagretti artificiali. Quindi la direzione deve essere veramente questa per non trovarci in difficoltà. Ecco, per chi ci stesse seguendo da casa e non capisse di cosa stiamo parlando, gli impianti hanno la necessità di avere acqua a disposizione per poter produrre neve, per poter programmare la neve, e non sempre questa, soprattutto in alta quota, per cui chi magari può attingere a dei laghetti artificiali, a delle vasche in quota, ovviamente è agevolato. Il caso di Campiglio dove in cinque giorni, dico bene? Cinque giorni si riesce a innevare la schiare, a tutti i collegamenti. Ma è che è il concetto che noi sapevamo già quando abbiamo preparato la pista da fondo. Il concetto della pista da fondo ne è uscito quest'anno la vera importanza quando in tre giorni siamo riusciti a creare un anello. Quello ha richiamato tutto il mondo nordico su Livigno. Quindi cogliere l'occasione per avere i tre, quattro giorni che notoriamente ci sono, quindi la possibilità di sparare, permette alla gente di cercare una località o l'altra. Uno quando guarda la nostra schiare dice, caspite, è molta da innevare, ma in questo momento con la tecnologia che c'è si può fare, bisogna avere l'acqua. Non si può togliere l'acqua dal paese per innevare giustamente, però avendo delle captazioni diverse, un approvvigionamento diverso, si potrebbe fare perché la tecnologia ad oggi lo prevede. La pista da fondo è un concetto diverso perché viene preparata in un momento di bassa stagione, quindi l'acqua c'è e le vasche sono piene. Quindi sono piene, approvvigionamento diverso. Noi peschiamo da una vasca sempre ben pronta a darci acqua, quindi senza avere il pericolo di rimanere senza. Quindi il concetto deve essere lo stesso. Veniamo quindi ai dati, cominciamo con le presenze. In dicembre sono di un meno 11,36%, quindi un 169.935. Diciamo che siamo, eravamo all'incirca con gli anni passati, eccetto il 2014. che era 191,717. Quindi da una buona stagione siamo passati a un inizio di stagione normale, quindi una buonissima stagione che ci vedeva, come dicevo prima, in crescita. Un dato che si discosta, per esempio, dal dato di Schipas? In dicembre abbiamo calcolato un meno 24,5%. Un dato complessivo? Complessivo, tutto dicendo. Per il periodo Schipas Free, quindi le prime tre settimane, meno 23%. Poi, come dire, abbiamo avuto un leggero peggioramento ancora, diciamo una settimana di Natale e anche la prima, quella di Capodanno, perché anche se il paese era pieno, la situazione non era ottimale. Poi il cliente italiano tipicamente, se non ci sono le condizioni ottimali, evita di sciare. Quindi lo scostamento fra il dato di presenza scistica e quelle alberghiere è spiegabile in questo modo. Ma è comunque un dato che si registra, magari non così elevato, ma che si registra sempre. Non tutti i frequentatori di Livigno sciano. Sì, quello sicuramente, non tutti i frequentatori di Livigno sciano. Anche se in realtà voi registrate i primi ingressi anche di residenti. Sì, quando parliamo di primi ingressi noi intendiamo, diciamo, il valore complessivo. Quindi sono tutte le tessere che sono a sciare, che fanno almeno un passaggio in una determinata giornata. Quindi le tessere sono tutte dal turista settimanale alle tessere giornaliere. Quindi un turista mordi e fuggi che probabilmente sfugge alle presenze alberghiere, perché sicuramente non pernota nella località, eccetera. E anche le presenze dei residenti oppure gli stagionali, chi magari ha la casa qua o in Alta Valtellina e viene solo nel weekend. Quindi, diciamo, è un dato complessivo. Quindi un meno 24 è un dato fortemente penalizzante. Sì, è un dato fortemente penalizzante. Bisogna anche tener conto dei valori assoluti, perché qui si sta parlando di dicembre. Come dire, le prime, storicamente, diciamo, le settimane forti di Skipas Free sono due. Diciamo, la seconda e la terza. Se io faccio, come ad esempio, la prima settimana di Skipas Free quest'anno era meno 50%, però si parla di numeri assoluti molto bassi. Quindi si passa da 10.000 presenze in una settimana a 5.000. Non sono, quando, come dire, in periodi di alta stagione 10.000 persone ci sono giornalmente a sciare. La seconda settimana? La seconda settimana, meno 31.000 e la terza settimana, che era quella più forte, meno 11%, che è tipicamente quella che va più forte in tutte le stagioni analizzate. Quindi, e qua anche i numeri assoluti cominciano a salire. Quindi il discorso guardando per percentuale, alcune volte, al di là del valore complessivo, diciamo, bisogna guardare i valori assoluti. I valori assoluti. Bene, passerai subito i dati registrati a gennaio, anche per far capire che cosa è cambiato. Quindi alle presenze di gennaio, poi magari sugli altri, quindi primi ingressi, eccetera, li aggiorneremo man mano. A gennaio che cosa è accaduto? A presenza di gennaio, non invertita la tendenza, ma siamo ai livelli dell'anno passato. Quindi un 198.397 presenze, corrispondono a un meno 0,85. Ricordo nel 2015 erano 200.099, nel 2014 188.000. Quindi siamo migliori del 13-14, siamo 0,85% in meno rispetto al 2015. Quindi vuol dire che probabilmente, questo lo può confermare Daniele, chi ha disdetto ha poi scelto un periodo diverso e può darsi che sia questo di gennaio, comunque un gennaio che è stato stabile, con già un gennaio del 2015, molto buono. Lei ha fatto le somme di questi dati? Sì, mi sono preso un attimo il tempo per capire esattamente quello che era poi la variazione percentuale in più o in meno, calcolando il dicembre e il gennaio. E appunto, sommando gennaio e dicembre, mi sono reso conto che abbiamo perso il 6% di presenze sul 2015. Questo comunque è stato un dicembre che era stato penalizzante e il gennaio sta appunto fatto in modo che questa penalizzazione venisse meno e si riappianassero un pochettino le cose come è successo il gennaio del 2015, che era stato molto molto forte. Vuole darci qualche dato relativo agli italiani e agli stranieri, quindi le presenze sia di dicembre che di gennaio? Sì, devo dire che in gennaio, per quanto riguarda le presenze della clientela italiana, si è mantenuta praticamente quasi come, anzi è cresciuta rispetto a quella dell'anno precedente, perché abbiamo 54.910 presenze italiane rispetto alle 52.000 dello stesso periodo dell'anno precedente. Mentre invece la clientela straniera per lo stesso periodo è scesa qualcosina, siamo a 143.000 presenze contro le 148.000 degli anni precedenti. Io leggo il fatto che gli stranieri, dovendo anticipare la vacanza, quindi prenotando anche in anticipo rispetto all'italiano, hanno dovuto disdire anzitempo, mentre l'italiano ha trovato l'occasione comunque per venire a Livigno e conferma il dato, se paragonato a quello di Schipas, che comunque si sceglie anche la località non solo esclusivamente per sciare, in caso di assenza o in caso di, come si può dire, Livigno attira molto ed è in linea con quello che si prevedeva a fine 2015, quindi era una forte affluenza, l'italiano ha rimarcato la sua volontà nel venire. Cioè il capodanno di Livigno, il periodo punta di Livigno, l'italiano difficilmente, anche se non c'è neve, cambia località. Viene per la festa, per il mood, per quello che succede. Quindi vuol dire che quello che avevamo analizzato nel novembre del 2015 era in realtà una previsione fedele a quello che sarebbe stato una buona stagione. Per quanto riguarda invece gli arrivi? Gli arrivi di gennaio sono 37.999, quindi un più 3,59 rispetto al 2015, che erano 36.682. Se li paragoniamo a dicembre, che non è un paragone che si può fare, ma solo per avere un termine di numero, a dicembre avremmo 33.665 arrivi, che consideravano un meno 11,86. Per quanto riguarda gli italiani e gli stranieri, invece? Gli italiani e stranieri sul gennaio un 12.368 quelli che gli italiani, quindi in aumento, e un 25.631 sempre gennaio in aumento quelli che sono gli stranieri. Questo è il dato classico di Livigno che aumenta, che sta crescendo, cioè classico nel senso che sta crescendo, ma classico per la sua conformazione di divisione tra straniero e italiano. Possiamo però dire che a gennaio negli ultimi anni i numeri sono cresciuti sempre. Sono sempre cresciuti, siamo sempre in piccolo aumento, cambiano i mercati interni, ma cresciamo. Veniamo a questo punto alla permanenza media di questi turisti. Sì, volevo solo ricordare appunto, quando parlavamo appunto del discorso delle tipologie di clientela che sta cambiando, come associazione appunto ci siamo resi conto che sta crescendo fortemente il mercato rumeno. Per esempio che ha fatto un 102% in più quest'anno, sono numeri assoluti ancora molto bassi, però si può dire che è un mercato in crescita, una parte d'Europa che comunque si avvicina alla nostra località, ed è una clientela che comunque sceglie strutture, alberghiere, comunque 3-4 strelle, o comunque appartamenti di livello. Quindi è un dato che riguardo appunto alla tipologia di clientela che frequenta Livigno, è sicuramente una nota positiva. Per quanto riguarda invece la permanenza media? Permanenza media, i dati parlano appunto che sono, nelle settimane di dicembre generalmente è più lunga la permanenza media, forse dovuto al fatto che lo ski pass free viene permesso per la settimana, quindi l'operatore è invogliato appunto a vendere il proprio appartamento, il proprio albergo per almeno 7 giorni. Questa cosa invece in gennaio non appare, si sa che in gennaio esistono dei periodi di vacanza più brevi, quindi la permanenza breve cala. Si passa appunto 4 notti rispetto alle 6 notti, quasi 6 notti che vengono fatte in dicembre. Quindi è un dato importante anche questo, per far capire l'importanza che Livigno ha per i turisti appunto, che scegliono Livigno per l'intera settimana. La tipologia invece ricettiva? Questi sono dati diciamo più marginali da analizzare verso fine stagione, ha fatto bene Daniele a notare il dato della Romania, abbiamo anche dei dati sulla Russia che sono negativi, che danno completamente in ribasso l'arrivo del russo, che notoriamente su gennaio era presente Livigno, ma per fare un confronto anche con le altre località il russo sta calando da tutte le parti, non è solo a Livigno, non è solo a Bormio, quindi non è solo nella provincia di Sondro, ma anche nel Trentino e in Austria, segno che l'uscita dalla Russia diventa sempre più difficile. Dicevo prima, mentre altri dati interni, quindi che si deducono da queste analisi, andrebbero fatti verso fine stagione, perché il cambiamento su gennaio, che si potrebbe dire il danese può mancare, lo troveremo poi a fine stagione, sicuramente con un, non un segno negativo, ma sicuramente con un segno stabile, perché ne abbiamo la conferma. Sulla tipologia ricettiva, l'appartamento a gennaio è cresciuto e Hotel Garni, che sono i due comparti presi, è calato leggermente, ma anche questo dà della tipologia, mancando i russi probabilmente che soggiornano di più in albergo rispetto all'appartamento, questi sono piccoli numeri che muovono e che quindi abbassano. Diciamo, possiamo dire che ad oggi la diversificazione tra appartamento e hotel non è mutata rispetto agli anni precedenti. A dicembre sicuramente il calo sarà stato significativo per gli affitti appartamenti? Dicembre sì, sicuramente la mancanza di neve ha fatto in modo che gli appartamenti non fossero così pieni, come invece è accaduto nel 2015 quando c'era la neve e le stima rischie pass free vendevano veramente molto bene. Quindi gli appartamenti nel mese di dicembre hanno avuto sicuramente un tasso di occupazione inferiore rispetto agli anni precedenti. Con un tasso importante? Un tasso negativo importante? Un tasso sì, diciamo importante per quello che riguarda gli appartamenti, meno invece sugli alberghi perché comunque essendo più flessibili sono riusciti a tamponare quello che era la mancanza di turisti settimanali che venivano direttamente per lo skip pass free. A gennaio? Gennaio no, gennaio è un po' diverso, gennaio si è appunto mantenuto sui livelli del 2015, infatti lo dimostrano i numeri che abbiamo letto prima, quindi non c'è il tasso di occupazione si è mantenuto stabile sullo stesso periodo dell'anno precedente. Avete parlato della Romania, abbiamo sentito il calo dei russi, ma i mercati top quali sono? Il mercato top rimane sempre il mercato polacco, c'è una crescita del mercato tedesco, sia nel mese di dicembre che nel mese di gennaio sono clienti che frequentano Livigno, stessa cosa per quelli clienti che vengono diciamo dalla Repubblica Ceca o dalle parti centrali dell'Europa. Sono mercati a cui Livigno piace molto sia per quello che offre per quanto riguarda il mondo neve, il mondo extra neve sostanzialmente, ma anche quello che effettivamente la località offre, quindi con diciamo quello che è annesso al divertimento e a tutto quello che offre Livigno parlando appunto di ristoranti, negozi, shopping e tutto quanto. Se parliamo di mercati straniere ovviamente la permanenza media è più alta, quindi siamo su? Siamo su il mercato straniero, fanno praticamente quasi 6 giorni, 5,85 se non sbaglio, il soldato purtroppo non l'ho aggiornato qua perché non l'ho preso con me, però è con una permanenza più lunga rispetto all'italiano che notoriamente riesce a venire a Livigno magari per periodi più brevi. Abbiamo dei dati più precisi? La permanenza media dell'italiano straniero sul gennaio è 4,44 per l'italiano e 5,60 per lo straniero, ma questo è un dato ormai noto e che stiamo cercando di mantenere con tutti gli strategiani possibili seppur la nuova legge sul turismo prevede l'affittanza anche per gli appartamenti inferiore alle sette notti. Io credo che questo sia un punto di riflessione dove tutti, soprattutto l'associazione, dobbiamo fare formazione perché il mantenere questa tipologia unica di Livigno sul panorama italiano escludendo se si vuole l'Alto Adige ma unica per il suo metodo con la quale riesce ancora fortemente a caratterizzare non solo attraverso gli eventi o non solo attraverso le opportune modifiche che lo Schipas fa per mantenere questa tipologia di vacanza ancora molto forte vada fatto proprio un incentivo a livello di persone, di formazione di conduttori delle strutture ricettive perché questo vorrebbe dire andare a distruggere quello che è la nostra clientela ma soprattutto quella nostra modalità di lavoro che riesce a sfruttare al meglio quello che è la struttura ricettiva mantenendo i costi quindi avere più marginalità. Il fatto di incentivare la vendita negli appartamenti inferiori ai 6 giorni, 7 notti è la cosa più deleteria che possiamo aspettarci. D'accordo? Il nostro consiglio va in questa direzione infatti nelle varie riunioni che abbiamo con lo Schipas cerchiamo sempre di attuare delle promozioni o comunque delle attività che facciano in modo che gli operatori appunto del store extra alberghiero si impegni a vendere al massimo le 7 notti proprio per cercare di avere qua i nostri ospiti per il più giro di possibile per una permanenza più lunga. Ecco abbiamo parlato di mercati stranieri per quanto riguarda il mercato italiano avete notato che c'è stato un leggero aumento di presenza a gennaio avete notato se è cambiato qualcosa sono i mercati di prossimità che prediligono la stazione oppure? Stesso trend quindi la Lombardia che la fa da padrona crescendo quindi quel concetto di vacanza che si diceva prima può darsi che è in atto quindi anche il Lombardo sceglie Livigno cala la permanenza media ma aumentano i loro arrivi quindi vuol dire che stiamo diventando anche per la Lombardia un mercato di più vicino di prossimità rispetto a quello che lo è già ma che prima e lo sappiamo benissimo arrivare alle nostre metropolitane più vicino ci vuole del tempo probabilmente il concetto sta passando visto anche e questo è segno delle attività di comunicazione ma soprattutto di eventi rivolti all'italiano quindi vedono una Livigno un po' più vicina non penso che siano non mi ricordo di aver visto strade nuove quindi la distanza è sempre quella ma il percepito ed è quello era uno degli obiettivi di Livigno di riuscire a dare un percepito diverso a quelle che sono le metropolitane italiane vicine a noi quindi si parla di Milano a questo punto vediamo i dati dell'associazione Schipas che cosa è successo a gennaio allora a gennaio diciamo ci siamo abbiamo ancora perso rispetto all'anno scorso meno 4% circa quello che c'è da dire però che comunque tutti questi confronti fatti sul 2014-15 dal punto di vista Schipa sono diciamo spesso impietosi perché l'anno scorso ci siamo trovati diciamo così in una concomitanza di fattori che hanno portato gente a Livigno perché dalle altre parti non c'era neve quindi il dato dello scorso anno era piuttosto gonfiato il dato dello scorso anno è molto come dire impietoso rispetto sarà difficile recuperare al 100% quindi però vi è stato un recupero bello sostanzioso gennaio sicuramente beh rispetto all'inizio di stagione sicuramente sì abbiamo perso un 4% rispetto al 2014 14-15 e invece ci siamo sostanzialmente cresciuti di pochi punti rispetto alla stagione precedente vuol darci qualche numero sui primi ingressi sulle vendite delle tessere sì allora su gennaio allora siamo passati dal 195.997 presenze i primi ingressi diciamo a 186.259 quindi meno 4% diciamo abbiamo questo sul totale non è il dato del singolo mese però in genere si portano per tutta la stagione diciamo la tipologia di tessere vendute ha privilegiato comunque la perdita è stata più contenuta sui diciamo delle tessere settimanali quindi da 5-6 giorni in su mentre abbiamo perso qualcosa rispetto all'anno scorso in particolare sui giornaliere o comunque periodi minori proprio per il motivo che dicevo prima cioè nel senso mancanza neve vuol dire meno turisti mordi e fuggi meno permanenze brevi almeno dal punto di vista sciistico ad esempio l'anno scorso con la buona situazione neve anche chi fa free ride eccetera comunque sono sciatori che tendono ad acquistare la tessera quindi magari per periodi di 2-3 giorni l'anno scorso c'è stata una buona crescita quest'anno invece al contrario un calo però sulle presenze settimanali questo calo che comunque c'è perché il 4% sulle presenze anche sulle tessere è meno evidente quindi la proporzione ci vi sono state settimane dove questi dati sono stati particolarmente marcati oppure l'andamento è stato costato? direi a gennaio abbastanza costante anzi diciamo abbastanza costante da meno 5 da meno 5 meno 7 meno 7 meno 2% nelle 4 settimane di gennaio con una media totale poi dopo fatta sui valori assoluti del meno 4% l'azienda di promozione turistica analizza anche altri dati che probabilmente come diceva prima possono dare un'indicazione più precisa a fine stagione ma che comunque hanno sempre un loro valore sia sui trasporti che sui prezzi sui transiti pedonali sulla pista di fondo purtroppo oggi non abbiamo la possibilità di fornire i dati registrati dall'ufficio comunale per quanto riguarda i diritti speciali per cui non abbiamo questi dati che riguardano il settore del commercio era stato invitato anche l'assessore al turismo che purtroppo non è potuto intervenire ecco perché occupo questa inedita posizione però possiamo fornire altri spunti di riflessione sì esattamente di supporto a quanto detto da Fabio pensa per lo Schipas il mese di gennaio si vede assolutamente una crescita e un andamento diverso rispetto a quello che era all'inizio di stagione quindi anche i parcheggi che analizziamo sono in netta crescita sul mese di gennaio e paragonati anche agli anni precedenti abbiamo un buon numero di gente che ha parcheggiato quindi auto su Livigno questo lo possiamo vedere anche dai transiti totali sul tunnel del Gallo e sul valico del Foscagno che sono in aumento sono in aumento in maniera considerevole quindi come leggere il perché è assolutamente difficile si può dire che il fatto di avere una crescita un trend di crescita uscire da una stagione molto buona che era quella passata ci si aspetta una stagione ancora più buona di quello che era e sta succedendo cioè quello che si sta muovendo sulla località adesso è assolutamente un dato comunque una buona capienza una buona capacità ricettiva e quasi all'occupazione piena inutile stare a sottolineare che le attività hanno fatto un forte sforzo nel mantenere a dicembre ma soprattutto a bravi come diceva prima Daniele a reinventarsi o a riproporre quello che è la per noto comunque la prenotazione nei mesi successivi e questo è il risultato gennaio febbraio stanno andando bene gennaio l'abbiamo analizzato a febbraio avremo i dati più avanti ma sembra già da un sondaggio fatto insieme ad associazione che associazione turismo e commercio che marzo sia un buon marzo sarà un buon marzo lo vediamo dai transiti quindi sono i nostri operatori appunto come era sia come era andata la stagione i primi ingressi di dicembre fino a marzo e quello che si rispecchia che è stato un buon febbraio perché c'è stato un tasso di occupazione comunque alto dal 60 80% 80% 100% addirittura diverse strutture e quello che si aspetta per il mese di marzo è comunque un bel pieno ancora vuoi la neve vuoi appunto gli impegni fatti e quello che è stato messo in campo un po' da tutti che le presenze sicuramente nel mese di marzo saranno buone quindi avete buone prospettive però parliamo anche di febbraio a questo punto visto che siamo già saltati siamo passati da gennaio a marzo a febbraio che cosa è accaduto poi vedremo i dati dell'associazione Schipas che ovviamente ci daranno dati effettivamente chiari non li abbiamo ancora per quello che è febbraio perché sono ancora in elaborazione però le sensazioni e i feedback raccolti per quello che riguarda il mese di febbraio sono positivi perché in tutti gli ambiti sia ricettivo che commerciale per quanto riguarda commerciale non ho dei dati certi a sensazione parlando con gli operatori appunto dell'associazione sono positivi perché quando è arrivata quando è arrivata la neve un po' il tutto è partito decollato definitivamente anche se già stava diciamo parzialmente funzionando le attività messe in campo poi dall'APT chi vuoi gli eventi Ferrari piuttosto che incontri con questo ultimo che c'è stato ora con Donnello Cucinelli hanno sicuramente richiamato l'attenzione hanno fatto vedere che Livigno è presente e le persone che appunto erano presenti a Livigno in queste settimane hanno potuto godere di queste attenzioni che magari in altre località non passano e quindi le aspettative per marzo dicevo sono comunque alte da dire invece forse avremo un po' di problemi la prima settimana di aprile perché parlando appunto con altri con i miei colleghi operatori notano un calo classico che c'è la prima settimana di aprile nonostante ci si impegni ci si sforzi sempre al massimo per offrire un Livigno sempre in piena forma durante la prima settimana di aprile ci sarà quest'anno la schieda non si riesce comunque a fare il pienone durante quella settimana anche voi perché la settimana successiva inizierà lo Skip Pass Free che è sempre la prima settimana di Skip Pass Free è sempre molto forte e quindi tanti turisti sceglieranno appunto quella settimana invece che la prima la prima esatto a questo punto vediamo i dati di febbraio e poi naturalmente anche questi primi giorni di marzo perché voi siete in grado di darci un dato in tempo reale noi siamo aggiornati ieri a mercoledì quindi allora febbraio compreso appunto gli ultimi giorni siamo più 1,5% rispetto all'anno scorso quindi diciamo tutte le settimane hanno mostrato dei valori positivi a parte quella confrontata rispetto all'anno scorso in cui c'era capitato carnevale carnevale in corrispondenza anche delle vacanze diciamo così della clientela danese che ha determinato l'anno scorso un valore particolarmente positivo quest'anno c'è stato solo per quella settimana lì un calo del 5% però comunque con valori assoluti anche quest'anno molto alti quindi diciamo che dal nostro punto di vista febbraio è andato molto bene sempre così come il confronto era impietoso sull'anno scorso quando c'è stata una perdita sapere di essere cresciuti diciamo così su su un'annata molto positiva come quella del 2014-15 fa ben sperare anche per le prossime settimane diciamo ecco vuole darci anche un'idea delle tessere settimanali vendute allora le tessere settimanali vendute che sono tra l'altro il diciamo così la tipologia più venduta quest'anno circa il 40% diciamo delle tessere che che emettiamo sono 6 giorni se poi dopo andiamo a sommare anche 5 giorni e 7 giorni arriviamo quasi al 50% delle tessere circa quest'anno sono state vendute questo dato aggiornato a fine febbraio circa cioè circa 65.400 circa e la percentuale sì con un calo leggero rispetto all'anno scorso però nell'ordine del 5% questo un dato complessivo quindi dall'inizio stagione ad oggi certo riuscite a vendere anche la 7-8 giorni sì con numeri in assoluto sicuramente più bassi quindi se vendiamo 65.000 tessere 6 giorni 7 giorni diventano 7.000 e 8 giorni circa 3.000 insomma particolarmente i danesi la clientela danese tende a acquistare l'8 giorni o 7 giorni arrivano il venerdì sera o addirittura al sabato e vanno già a sciare diciamo fanno un giorno in più rispetto alla cliente e la media lei ha il dato della giornata record di quest'anno? no non ce l'ho adesso quindi però vado a memoria eravamo diciamo che il record storico sono circa 13.000 presenze rotti 13.500 mi sembra quest'anno quest'anno siamo arrivati oltre 12.000 però comunque diciamo che è un ottimo risultato avete un dato indicativo di questa settimana ovvero quanti primi ingressi sono stati registrati in una giornata tipo? circa sul diciamo il valore si assesta intorno ai 10.000 abbiamo avuto questa settimana insomma domenica e lunedì il meteo non ci ha non ci ha favorito quindi la giornata con più presenze in assoluto è stata poi il martedì quando chi ha spostato diciamo così si è fatto passare la voglia di andare a sciare quando non c'era non c'era bel tempo abbiamo avuto un po' più di quasi 11.000 primi ingressi nella giornata del grande evento che cosa è successo sulle piste? non l'ho verificato quindi però penso che non ci siano state grosse cambiamenti perché comunque la clientela tende ad andare a sciare diciamo così la mattina sì dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio poi ovviamente ci sono gli estremi diciamo il nostro parametro sappiamo che intorno a mezzogiorno mezzogiorno e mezzoluna avremo diciamo così il massimo il picco il picco degli sciatori tendono comunque a salire però di poche unità diciamo l'indicazione l'abbiamo per il primo pomeriggio insomma grazie ai dati che elabora l'associazione Schipas alle analisi dell'associazione turismo commercio e agli elaborati di APT si riescono a avere e a controllare tantissimi fattori non ultimo quello dei passaggi per esempio pedonali un altro dato che può sembrare curioso ma che è indicativo di quello che avviene a Livigno e di come un evento piuttosto che un altro possono condizionare la difficoltà in questo momento per l'azienda di promozione turismo è quella di avere un dato sul commerciale quindi il dato sul commerciale vero e proprio di andamento dovrebbe essere ne stiamo parlando ormai da da mesi con l'associazione di trovare un sistema ma questo punto deve essere volontario di percezione di quello che è il dato commerciale perché altrimenti non abbiamo altri strumenti non possiamo mettere un contapersona in tutti i punti commerciali non possiamo collegarci alle casse dei punti commerciali dobbiamo trovare un sistema per poter verificare quanto sta succedendo l'andamento anche della vita riusciamo a farlo con la pista da fondo con la pista ciclopedonale e con l'andamento del flusso pedonale diciamo avete il contapassi non il contapassi il contapersone quindi abbiamo all'incirca un 20.000 persone che transitano sulla via pedonale giornalmente quei dati di febbraio rispecchiano i dati che lo Schipas ha appena detto quindi un aumento una buona tenuta della vendita dello Schipas corrisponde a un buon flusso di persone sulla via pedonale quindi se tanto mi dà tanto ma non è così perché non è una legge chiara e certa più gente c'è ci potrebbe essere più gente che acquista sto parlando della zona pedonale dove abbiamo i rilevatori non ci permette di capire appunto cosa fanno però c'è l'afflusso e c'è la possibilità ora abbiamo anche il dato di Acquagranda e incrociandolo è simpatico incrociarlo con quello dello Schipas dove nel momento che c'è meno affluenza sulle piste noi abbiamo maggiore entrate nell'acqua grande ci dà qualche indicazione ci fornisce qualche i dati ad oggi non sono ancora del tutto analizzati i dati che ho fornito nell'incontro pubblico con la cittadinanza era di un 12.800 presenze che sono un buon dato ed erano ai primi di febbraio quindi verificando adesso il tutto riusciamo a dire che analizzandoli mettendoli poi rendendoli poi ufficiali riusciamo a dire che effettivamente sono l'attività di acqua grande è un'attività che non si contrappone a quello che è il mondo neve o quello che è il mondo odore quello per cui si sceglie la vacanza Livigno ma sono di assoluto supporto alla località nel caso di brutto tempo o nel caso di attività collaterali appunto l'acqua grande ne beneficia ma ne beneficia l'ospite che trova una struttura pronta ad accoglierli dicevo prima anche il dato della pista da fondo è in perfetta sintonia con quello che abbiamo detto come presenze e biglietti skipas venduti quindi su un febbraio c'è una crescita riuscire a monitorare ad avere tutti questi dati ci permette di fare delle azioni diverse non solo mirate al post quindi a delle attività di marketing o comunque delle attività strategiche ma ci permette anche di anticipare perché avendo uno storico riusciamo a capire in tempo anticipando quello che è la realtà del flusso che ci può avere Livigno quindi questo è molto importante ecco a proposito di flussi vi è un dato che è un po' in controtendenza a quanto avete detto voi che è quello dei transiti delle auto dai passi che sono nettamente superiori a quelli che avete fornito voi sia a dicembre che a gennaio come legge questo dato secondo lei perché vi erano comunque più rivi ma sia dal Foscagno che dal Gallo è vero che dal Gallo transitano anche le auto che vanno nel resto della valle e dal Foscagno le auto che ovviamente ripartono ci bisognerebbe analizzare bene il dato e avere i dati puntuali di giorno per giorno questo è il dato complessivo dovuto alle strade più pulite sicuramente le strade pulite il fatto che avevamo un autunno e non un inverno permette alla gente di muoversi e di avere più propensione al movimento e anche al tocca e fuga perché i dati di dicembre dicono lo ripetiamo un meno sulle presenze un meno sugli arrivi e parliamo di ricettivo però è anche vero che i commercianti erano molto contenti difatti quello che appunto allora va nella direzione i parcheggi aumentano aumentano i passaggi pedonali aumentano i passaggi sui valici vuol dire che la gente ha avuto la strada libera diciamo la strada pulita per potersi muovere quello strategicamente vuol dire che è molto forte i periodi di appunto come dicevo prima del ponte dell'Immacolata è stato un ponte record vuoi anche l'apertura della strada dalla Forcola che l'inverno prima era chiusa e le strade pulite pulite per l'Immacolata pulite per Natale pulite per l'ultimo dell'anno praticamente quindi a questo ha invogliato moltissimo anche i turisti che generalmente alloggiano a Bormi o piuttosto che altre località vicine a poter salire e magari non necessariamente a sciare ecco perché i dati di Schipas sono questi ma comunque salire a Livigno e poter acquistare nei nostri negozi e girare nel nostro paese Ci sono altri dati che riuscite a fornire come associazione Schipas che riuscite ad elaborare riguardano innanzitutto i mercati e poi gli arrivi Certo diciamo che noi in genere abbiamo una temperatura diciamo del momento in particolare dalla metà settimana in avanti per quella che verrà ad esempio la settimana prossima grazie ad alcune vacanze periodi di vacanze soprattutto che ha la clientela della Repubblica Ceca avremo probabilmente dei numeri simili a quelli di questa settimana quindi dovremmo essere intorno ai 10.000 persone al giorno questo io adesso sto parlando diciamo così degli arrivi previsti dall'agenzia questi si sommano poi tutti quelli privati che non possono essere per forza di cose monitorati perché non abbiamo delle prenotazioni sugli Schipas però in genere la proporzione è abbastanza costante quindi ci aspettiamo una buona settimana anche per quella che verrà per quanto riguarda invece la Pasqua che cosa vi aspettate visto che quest'anno sarà piuttosto anticipata sì con la Pasqua che caderà così da così presto noi sostanzialmente come associazione siamo abbastanza tranquilli perché siamo ancora in un periodo comunque di Schip quindi ci saranno comunque moltissimi clienti stranieri che sceglieranno Livigno indipendentemente dalla Pasqua c'è da dire poi che la settimana precedente della Pasqua con l'azienda di promozione turistica abbiamo ideato la settimana del Kids Go Free quindi ci sarà un incentivo anche diciamo per le famiglie e per i bambini appunto a salire a Livigno quindi la Pasqua così bassa sicuramente non ci spaventa anzi ci rinforza ulteriormente e ci fa attendere al meglio anche il periodo di aprile con l'inizio dello Schip Pass Free la stagione si chiuderà il primo di maggio si chiuderà comunque la stagione si chiuderà il primo di maggio si chiuderà con speriamo con ancora della neve quindi permettere a chi sceglierà Livigno per la neve di primavera e devo dire che questo è un concetto che sta passando nelle teste soprattutto delle locali delle mercati limitrofi a noi la Germania in un recente incontro quando al giornalista disse noi abbiamo la neve di primavera lui sapeva perfettamente questo giornalista sapeva perfettamente che Livigno riesce a andare oltre quello che è maggio perché in un'attività fatta l'anno passato con dei giornalisti abbiamo sciato fino a oltre il il periodo di chiusura della stagione normale che gli impiantisti con gli sforzi fatti e con poi il il numero alla mano non hanno quella possibilità di mantenersi oltre quindi anche avendo la neve devo dire che non vedo una cosa preoccupazione anche se le temperature potrebbero inalzarsi e abbiamo parecchie richieste soprattutto per i corsi di formazione o gli esami o quello che è l'attività professionistica del mondo neve su questo abbiamo parecchi interventi avremo anche qualche attività legata a degli eventi che non si riescono a riproporre in altre località ora questo non è confermato quindi a breve daremo l'ufficialità di qualche evento che sta chiedendo alla località di poter essere ospitato in quanto dalle altre località non si riesce a portarlo avanti quindi aprile per noi questa neve di primavera al di là dello ski pass free al di là degli eventi come Snowland che potrebbero attirare ancora parecchia apparecchia comunque buona clientela in termini di numeri diciamo che la stagione svolgerà il termine con un buon un buon numero una buona capienza una buona recettività al di là di questi pronostici ottimistici la stagione mi pare di capire è una una stagione impegnativa per la località da ogni punto di vista avete ottenuto una visibilità straordinaria grazie ad alcuni eventi li abbiamo citati prima vuole darci qualche indicazione in più sull'effetto Ferrari la stagione è una stagione impegnativa ma il turismo è un'attività impegnativa nel senso che in questo momento il nostro competitor maggiore è la tecnologia che non è un competitor se usato nel modo migliore quindi è uno strumento per poter essere presenti ma soprattutto per poter raddrizzare il tiro in caso di sbandate cosa voglio dire che il turismo si muove sempre più velocemente i flussi scambiano in modo sempre più veloce e repentino e questo quando dico la tecnologia internet ci aiuta o ci toglie possibilità ci toglie possibilità perché mancata neve mancata stimolo o stimolazione da parte della località a entrare e a venire a soggiornare in questo caso a Livigno internet ti dà altre mille opportunità quindi se usato bene lo strumento digitale aiuta quello che è successo è che usando bene lo strumento digitale usando bene un brand riconosciuto come quello di Ferrari ci ha permesso di arrivare ad essere la prima località nel mondo digitale nell'era digitale la prima località social nel periodo che la Ferrari era qui a Livigno quindi il mio obiettivo che era l'obiettivo di inizio stagione con tutto lo staff di APT quello di essere il miglior social di località intergettizzato come località sul mondo alpino è avvenuto con l'evento Ferrari altrimenti siamo intorno al terzo o quarto posto cosa dire la rassegna stampa non è ancora conclusa perché è enorme la rassegna video quindi quello che è il video quello che è tutto il digitale collegato alle immagini si sta concludendo ma è un lavoro enorme quello che possiamo dire sono i dati oggettivi che Google Trend o comunque Google Analytics e Facebook ci possono dare in quel momento abbiamo avuto una notorietà pazzesca non era programmato è vero c'era tanta aspettativa dietro noi avevamo eravamo già partiti a luglio facendo dei ragionamenti ma è successo all'ultimo vuol dire che l'attività turistica e gli operatori devono muoversi all'ultimo questo non deve essere il driver non deve essere la linea ma devono essere capaci di adattarsi e essere molto duttili per poter avere maggior successo soprattutto in termini di cittività questo è stato un evento mediatico fortemente mediatico con un brand quello di Ferrari riconosciuto in tutto il mondo che ci ha fatto conoscere effettivamente in tutto il mondo non solo in Italia quindi la capacità del Livignasco è questa ma dobbiamo sfruttarla al meglio per accogliere questo tipo di eventi ma soprattutto quegli altri eventi che potrebbero succederci o avvenire con anche numeri di pernotti diversi cambia anche un po' la tipologia di clientela abbiamo visto anche qualche VIP in queste ultime settimane personaggi della moda grandi chef se possiamo fare anche qualche nome lo facciamo si cambia l'obiettivo centrale era quello di sto parlando di località era quello di aumentare il percepito della località sul mondo Italia noi non vogliamo e adesso non me ne vogliono gli italiani ma non vogliamo aumentare il mercato italiano che ben venga se aumenterà ma vogliamo mantenere e consolidarci sul mercato straniero dove abbiamo godiamo di buona notorietà a differenza del mercato italiano dove l'ivigno è sempre risultato distante freddo lassù in cima ai monti e con queste attività legate a brand internazionali e quindi che non ci tolgono la possibilità di essere riconosciuti nel mondo Germania eccetera i nostri mercati obiettivo riusciamo a rendere l'ivigno un percepito maggiore a quei target o fascia di gente di clientela di ospiti un pochino più alta quindi questo sta succedendo grazie a questi eventi grazie a questi personaggi che orbitano su l'ivigno vediamo ultimo Brunello Cucinelli Macracco Ferragamo tutto lo staff i dirigenti Ferrari e non solo che erano invitati per l'evento Hublot hanno permesso di rendere virale un video pazzesco che parlava di Livigno ma hanno permesso anche loro di dare quel imprinting di Livigno come una località non più vista lontana difficile da raggiungere e quindi che certi tipi di persone non vogliono per non comodità ma rendendolo così facile e fruibile e di un percepito un po' più alto è d'accordo? esattamente sì il fatto di poter alzare quelli che sono i target delle nostre strutture dei nostri negozi fa in modo che questi VIP comunque questa nicchia di persone possano venire a Livigno siano invogliate a venire e venendo loro sicuramente avranno un seguito di persone appunto che sceglieranno anche loro Livigno e saremo sempre più al top bene se non abbiamo altro da aggiungere possiamo chiudere questo nostro appuntamento io ringrazio i miei ospiti Fabio Pensa per l'associazione Schipas di Livigno buonasera Daniele Compagnoni grazie mille e Luca Moretti grazie a voi buon continuo di stagione grazie anche a voi da casa che ci avete seguito naturalmente Grandangolo vi aspetta venerdì prossimo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti